Ma perché so che devo fare? Lo sai per te e per quei navigatori Ma perché a te non ti basta, sei fatto così? Ma che stai a dire? Senti, devi fare una cosa adesso, devi andare a parlare con Danilo Mi serve una perizia psichiatrica E' l'unico modo che c'è per uscire da qui dentro Di che andassi dal dottore, quello della villa, che lui capisce? Guarda che io da quelli ci sono già andata E' stato tutto inutile Come sarebbe a dire stato inutile? Sarebbe a dire che prima mi hanno detto che devono pensare a Maurizio E poi penseranno a te E per i soldi devo pure aspettare Perché adesso è un brutto momento Come sarebbe a dire un brutto momento? Ma che stai a dire? Tu stai a dire? Senti, per Maurizio mi sta bene Ma per me si deve portare una perizia psichiatrica al più presto Perciò tu adesso fai quello che ti dico io Torni da Danilo Gli chiedi i soldi Se non te li dà me lo mandi qui da me a parlare Che poi glielo spiego io Chiaro? Vabbè ci vado